Bilancio positivo per la quinta edizione di Volontari per la Cultura, il programma ideato e coordinato dalla provincia di Sondrio, soggetto capofila, con partner Lavops, Centro Servizi per il Volontariato e il Comune di Tirano e l'adesione di numerosi altri comuni e istituzioni del territorio. L'idea è semplice e vincente al tempo stesso, offrire l'opportunità di fare volontariato nelle biblioteche e nei musei di Valtellina e Val Chiavenna a persone di varia età che possano mettere a disposizione molto tempo o anche un numero di ore più limitato. Un modo al di fuori delle forme associative tradizionali di mettere in circolo risorse preziose per i servizi culturali di centri grandi e piccoli, offrendo ai cittadini la possibilità di condividere con altri i propri interessi. Un esempio virtuoso di promozione delle comunità che nel due 2016 ha ottenuto il sostegno anche di Fondazione Cariplo sul bando protagonismo culturale dei cittadini. Nel corso degli anni, infatti, i cittadini aderenti impegnati in questo autentico progetto di cittadinanza attiva sono stati impegnati in svariate iniziative come l'aiuto al personale nella gestione delle biblioteche, l'aiuto a bambini e ragazzi nel doposcuola, i corsi di lingua e informatica, i laboratori di artigianato tradizionale, le visite guidate o i gruppi di lettura per adulti e bambini. Un successo riconfermato, sottolinea la provincia di Sondrio, testimoniato anche dai numeri. In sole quattro edizioni, Volontari per la Cultura ha registrato un più 125% di adesioni sia da parte dei servizi culturali del territorio che da parte dei volontari. Oggi sono 254 le persone che offrono il loro tempo e le loro competenze ai musei e alle biblioteche di Valtellina e Valchiavenna. A settembre sul sito www.volontariperlacultura.it saranno pubblicate le proposte di attività per il prossimo anno a cui si sta già lavorando. All'edizione 2016-2017 hanno partecipato 22 biblioteche e 5 musei. Grazie a tutti.